Climaus 2011 Bolzano, quali sono le novità che la vostra azienda porta in fiera? Quest'anno portiamo la nostra ormai consolidata gamma del Poro Term Bio Plan, che è il blocco rettificato con ottime prestazioni termiche e ancora il blocco riempito con la perlite, sempre rettificato, e in più il nuovo blocco Poro Term Plan A+, che è il blocco sempre rettificato di produzione tedesca, ma comunque sempre Wienerberger, con fori saturati in lana di rocce per prestazioni sempre elevate in sostanza e ottimo sia per quanto riguarda la fase invernale, quindi di trasmittanza termica, che per la fase estiva, quindi inerzia termica. Sul nuovo numero di Tecnego è presente proprio questa gamma, la Poro Term Plan, in che cosa consiste nello specifico? Assolutamente, la gamma Poro Term Plan consiste in un blocco, tra virgolette, tecnologicamente avanzato, nel senso che noi prendiamo il nostro classico blocco a incastro e realizziamo una produzione particolare, che è chiamata rettifica, ovvero facciamo passare il blocco all'interno di una macchina particolare, che non fa altro che rettificare, rendere perfettamente livellate le superfici dove poi viene stesa la malta. In questo modo riusciamo a realizzare una muratura con giunti di malta sottilissimi, eliminando la malta dalla muratura, pressoché totalmente, e quindi aumentando sempre di più le prestazioni termiche della muratura stessa. Grazie.